Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Anche oggi incontriamo uno dei nuovi consiglieri regionali eletti in Abruzzo dopo il voto del 10 marzo scorso. Salutiamo e ringraziamo Vincenzo Menna. Buonasera. Buonasera a tutti. Vincenzo Menna, primo e unico eletto nella lista Abruzzo insieme d'amico presidente in provincia di Chieti, circoscrizione nella quale questa lista ha ottenuto un ottimo risultato e ha mandato in consiglio regionale uno dei suoi rappresentanti. Ed è proprio il vice sindaco attuale di Atessa, Menna in molti lo conoscono anche per le sue passate attività sportive, lei è stato calciatore in molte delle squadre principali di questa regione, il Lanciano, il Teramo, la Vastese, insomma anche l'abbiamo conosciuta per la sua carriera calcistica. Poi una carriera diciamo professionale e quella politica come numero due di una giunta guidata dal collega Giulio Borrelli che Atessa rappresenta un po' questa maggioranza di centro-sinistra. Ecco, intanto ci racconti come è stata questa sua avventura elettorale, avete festeggiato domenica in piazza questo dato molto importante che è diverso da quello che appare sul sito del Ministero degli Interni perché avete avuto in realtà più voti rispetto ai 2600 che vi vengono accreditati. Sì, i voti sono 2703 perché c'era mancato un conteggio di una sezione del nostro comune, la sezione numero 12 se non erro. Domenica abbiamo festeggiato, era doveroso festeggiare alla Tessa con i miei concittadini, il tempo ci ha giocato un brutto scherzo, alle 9 abbiamo dovuto smettere per la pioggia però è stata una giornata significativa dove ha partecipato anche Luciano D'Amico. Un doveroso ringraziamento a chi mi ha aiutato, alla mia famiglia che mi ha sopportato e supportato in questi due mesi di campagna elettorale dove sono stato assente e a tutti quelli che mi hanno dato una mano in campagna elettorale. C'è stata proprio in questa campagna elettorale una forte polemica relativa in particolare alle infrastrutture della vostra zona la polmone industriale d'Abruzzo, lo stabilimento Stellantis e un po' tutto l'indotto. Ecco, che cosa hanno capito i cittadini di quello che è stato fatto e non è stato fatto in Val di Sangro per le infrastrutture e poi penso sia stato il tema principale della sua campagna elettorale, perché le hanno dato questo consenso anche su questo? Il consenso che noi abbiamo avuto nel nostro territorio, noi abbiamo preso il 60% dei consensi nel mio paese a cui poi si sono aggiunti i voti degli altri paesi, però nel mio territorio la cosa che è saltata all'occhio ma non lo dico io oggi, ma è una questione annosa che va avanti da parecchio tempo è lo stato di abbandono dell'area industriale, che è l'area industriale più importante del Mezzogiorno e più importante d'Abruzzo, in quanto un terzo del PIL viene prodotto nella nostra zona dove non lavorano solo i cittadini di Atessa, ma vengono persone da tutto l'Abruzzo uno stato di abbandono che sarà uno dei primi punti che porterò in Consiglio regionale di promesse ne sono state fatte tante, addirittura questo non è frutto soltanto dell'ultimo governo ma i benefici che abbiamo avuto, quei pochi benefici risalgono all'aggiunta d'Alfonso con il Masterplan quello che hanno nei dintorni della zona industriale, ma per quanto riguarda il cuore della zona industriale è versa in uno stato di abbandono totale, la semplice segnalitica orizzontale, l'illuminazione e varie infrastrutture interne, così come i servizi che servono ai tanti autotrasportatori che giungono ogni giorno presso lo stabilimento Stellantis anche Tavares che è stato qui qualche mese addietro ha ripetuto le stesse cose che aveva detto il compianto Marchionne quando venne, se non erro, nel 2013 quindi a distanza di 11 anni nulla è cambiato, solo promesse che l'Arap e la regione Abruzzo non hanno mantenuto si spera che in questo Consiglio regionale ci sia un dialogo tra le forze politiche affinché questa zona venga ristrutturata C'è questo tema delle infrastrutture ma c'è anche il tema più generale dell'industria automobilistica di fronte alla sfida della transizione energetica quali sono, lei che insomma le cogli un po' più da vicino e che dovrà trasmetterle nell'Assemblea Legislativa d'Abruzzo le sensazioni, gli stati di animo soprattutto dei lavoratori della Stellantis circa il loro futuro? Bisogna ripartire dalle piccole cose, cioè dalla sicurezza stradale che impegna, che mette a rischio tutte le persone che lavorano per quanto riguarda il discorso delle infrastrutture bisognerebbe fare un piano energetico perché ci sono delle interruzioni che costano parecchio soprattutto allo stabilimento principale che è Stellantis ma che coinvolgono un po' tutte le industrie e le piccole attività del posto che sono tutte poi a servizio delle grandi industrie c'è un'industria manifatturiera importante, questa industria manifatturiera non può soltanto assemblare noi avevamo pensato come capofila di 22 comuni, avevamo presentato al Ministro Carfagna all'epoca che era il Ministro del Sud un contratto istituzionale di sviluppo che è il CIS che poi è stato rimandato indietro dalla Regione ecco queste cose non devono più avvenire perché una volta approvato dal Ministero e qui ci sono le carte questo progetto che riguardava l'industria sostenibile e quindi anche la vivibilità nel posto per rimanere le persone nella Val di Sangro c'è stato bocciato dalla Regione Abruzzo, non so per quale motivo se non di ripicca verso un'amministrazione avversa queste cose non debbono più succedere quindi noi ci impegniamo a portare avanti le istanze che sia come amministrazione locale abbiamo portato in questi dieci anni, prima un pezzo di opposizione, adesso nel sesto anno di amministrazione di maggioranza e speriamo che la giunta nuova, la giunta Marsilio che ha già governato cinque anni sia più aperta alle istanze del territorio Un altro tema forte di queste campagne elettorali è che Marsilio in particolare ha rivendicato alla sua maggioranza l'aver salvato l'ospedale di Atessa, è stato così? L'ospedale è una cosa, i servizi che ci sono oggi con gli operatori che lavorano all'interno dell'ospedale sicuramente fanno un buon servizio, fanno il loro lavoro ed è importante l'ospedale di comunità ma l'ospedale, quello che era prima e soprattutto quello che oggi nel piano di riordino azientale regionale è tutt'altra cosa, noi siamo stati riconosciuti come ospedale di area disagiata ad oggi questo riconoscimento è solo sulla carta il compito nostro è farlo attuare, adesso l'ospedale di comunità nel PTA di Atessa non è altro che un ospedale a gestione infermeristica che dà dei servizi importanti ci sono anche servizi ambulatoriali importanti, qualche altro servizio come la momografia che prima c'era e adesso non c'è più l'ospedale è stato smantellato non precedentemente come qualcuno può far credere dalla giunta d'Alfonso ma è stato smantellato in occasione del Covid in occasione del Covid è stato istituito l'ospedale di Covid Hospital finito il Covid sono state riportate alcune cose, siamo ancora in ritardo c'è stato un rifacimento edilizio della struttura ci sono dei servizi, mancano altri servizi che prima erano e oggi non ci sono e il protosoccorso non è un protosoccorso ma è un PTA è un PPI, punto di primo intervento l'ospedale ha bisogno di altri, il protosoccorso ha bisogno di posti letto di una medicina, di qualcosa che c'è dietro oggi se chiami il 118 non ti fermano alla testa ci devi arrivare con i piedi e poi ti portano con i propri piedi e poi ti portano in un'altra struttura noi prepariamo per far applicare tutto ciò che è scritto e che hanno promesso ma che è scritto soprattutto sul piano interiore dell'aziendale l'ospedale è un'altra cosa noi ringraziamo quelli che ci lavorano fanno dei servizi importanti ma adesso è una struttura infermieristica gestione infermieristica con i medici di base a sostegno quindi l'ospedale è un'altra cosa lei ha parlato un po' di quelli che sono i temi fondamentali che saranno anche le questioni, i dossier che lei seguirà in consiglio regionale per il suo territorio che è quello che va a rappresentare ma c'è un discorso un po' più generale di cosa farà l'opposizione, la minoranza in questi cinque anni domenica è stato proprio da voi Luciano D'Amico che clima c'è sia nel valutare il risultato elettorale generale non positivo soprattutto relativamente all'astenzionismo ma anche per organizzare quella che sarà l'opposizione alla giunta Marsiglio alla sua nuova maggioranza Menna ma io penso che D'Amico sarà la giusta espressione di un insieme di forze politiche è stato chiamato per mettere assieme tutte le forze politiche, politiche civiche il risultato di Abruzzo insieme è significativo una forza civica non di facciata ma composta da amministratori che conoscono bene il territorio prima delle elezioni c'era un clima di sfiducia oggi nonostante la sconfitta c'è un altro clima c'è un clima di fiducia si è ripresa la fiducia quella fiducia che noi dobbiamo trasformare in proposte all'interno del Consiglio Comunale del Consiglio regionale delle proposte che noi faremo una volta che ci saremo insediati D'Amico è il giusto collante tra le forze diverse all'interno dell'opposizione però siamo convinti che con lui porteremo avanti tutte le proposte che abbiamo fatto in campagna elettorale dove forse dovevamo parlare ancor più dei temi siamo partiti leggermente in ritardo però le varie forze hanno dimostrato di essere presenti naturalmente il maggior consenso l'abbiamo preso vedendo i dati dai centri più grandi magari abbiamo mancato nelle aree interne dove forse dovevamo spiegare meglio e dovevamo partire prima con i contenuti adesso abbiamo tempo faremo sicuramente un'opposizione ferrea ma costruttiva appunto per questo io chiedo a lei che è un amministratore di un comune di media grandezza oltre a essere il comune che ha l'industria più grande della regione sul suo territorio ma perché un abruzzese su due oggi ha un rapporto con la politica così distorto nel senso che ritiene la politica una cosa da cui stare alla larga e non vota nemmeno anche voi amministratori che siete un po' i loro rappresentanti che logica sta scattando e soprattutto che tipo di risposte deve dare la politica rispetto a questa disaffezione io penso soprattutto che nel corso degli ultimi anni la politica si è allontanata da quello che sono i territori se non ha avuto più contatto con le persone almeno oggi paghiamo questo dato questo modo di fare è chiaro che le cose più difficili da cambiare sono le abitudini e oggi come dicevi prima un elettore su due non va a votare il compito della politica è riguadagnare guadagnarsi nuovamente la fiducia da parte degli elettori che sono scontenti naturalmente certi comportamenti degli ultimi anni ma questo anche a livello nazionale questa bagarre questa astiosità tra le forze politiche non ha fatto altro che allontanare le persone dalla politica il progetto il patto per l'Abruzzo fatto da Amico ma soprattutto Abruzzo Insieme che è una forza veramente civica che deve fare che è stata ripagata con il consenso delle persone appunto perché è una forza diciamo così lontana dai partiti pure avendo una collocazione ben specifica è lontana dalle dinamiche dei partiti e io penso che oggi si debba rispondere più alle esigenze dei cittadini e meno fare meno bagarre e meno predestuosità quelle predestuosità che come ho detto prima ha inciso anche nella nostra proposta del CIS di un paio di anni fa che ha penalizzato naturalmente non a Tessa per una semplice ripicca ma ha penalizzato un'intera regione benissimo ringrazio Vincenzo Men naturalmente in questi cinque anni ci vedremo spesso complimenti ancora per il risultato e buon lavoro in consiglio regionale grazie ai nostri telespettatori arrivereci a domani alla stessa ora buona serata grazie